Buongiorno e bentrovati con l'edizione mattutina del TGL News di venerdì 24 novembre. La giornata dedicata a San Colombano, patrono di Bobbio e copatrono della Diocesi, si è chiusa con la necessità di una riflessione urgente sul futuro dell'Europa. Dobbiamo restare vigili, l'Europa è oggi a forte rischio di disumanizzazione, esattamente come ai tempi del santo, ha detto il Vescovo Gianni Ambrosio. Inaugurata anche l'opera L'Uomo della Pace dell'artista internazionale Franco Scepi alla presenza del premio Nobel Lord David Trimble. La situazione è drammatica, sto pensando di chiudere l'azienda. Il mio buongiorno ai 60 anni da 50 agricoltore non ce la fa più. I cinghiali, mediante razzie notturne, stanno infatti devastando i suoi campi coltivati a frumento. L'ultima visita risale la notte scorsa quando un automobilista ha ripreso con foto e video un cinghiale mentre attraversava la strada proprio nei pressi dell'azienda di Bongiorni a Rezzanello. Per questo motivo col diretti Piacenza ha rivolto un appello alle istituzioni per trovare una soluzione efficace al problema e scongiurare la chiusura delle aziende e degli allevamenti. Erano circa le tre e mezza di questa notte quando quattro uomini incappucciati hanno preso d'assalto un bar in piazza Bergonzi, in località Fontana Pradosa, nel comune di Castel San Giovanni. Sul posto sono arrivate tre pattuglie ivri assieme ai carabinieri. I malviventi si sono quindi date alla fuga, abbandonando il furgone che stavano utilizzando. Giornata di super sconti oggi con il Black Friday, una trovata commerciale ereditata dagli Stati Uniti. Questa mattina è scattata la caccia all'offerta migliore negli oltre 70 negozi che a Piacenza aderiscono a questa iniziativa. Il venerdì si preannuncia nero per il deposito Amazon di Castel San Giovanni dove i lavoratori hanno indetto uno sciopero proprio per oggi, giornata clou per il colosso delle vendite online. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 13.15 con il TGL ma l'informazione continua sul nostro sito liberta.it